Il Ristorante Il Grappolo di Alessandria Il Grappolo è sito in un palazzo del fine 600 e 700 nel centro di Alessandria, il palazzo è il palazzo Prati di Capriata, palazzo che appartiene alle belle arti. Da oltre 100 anni all'interno di questo edificio si svolge ristorazione e da ben 34 anni sotto la nostra gestione. Un piatto che caratterizza al meglio il nostro locale è il carrello del bollito misto che comprende i 7 classici tagli piemontesi accompagnate dalle 14 salse fatte tutte da noi che sono comunque frutto delle ricette della tradizione piemontese. Un piatto particolarmente gustoso che è la leggenda narra che fu servito per la prima volta al re Vittorio Emanuele. Storia, tipicità ma anche uno sguardo sempre rivolto al futuro. La gestione del grappolo vanta una storia ultra tentennale ma l'entusiasmo e il desiderio di continuare a studiare nuove proposte pur rimanendo nella scia della tradizione sono rimasti inalterati. Storia, tipicità.